Amici 22, ecco chi sarebbe l'allievo eliminato ballottaggio nella quinta puntata del serale. Si sono svolte ieri pomeriggio le registrazioni della quinta puntata del serale di Amici. Io Talent Show di Maria De Filippi nonostante sia giunto alla sua 22esima edizione è più vivo e coinvolgente che mai. Nelle anticipazioni pubblicate in serata dalla pagina Twitter Gossip TV sono stati svelati i nomi dei due allievi che sono finiti al ballottaggio per l'eliminazione. Gli allievi che si sono contesi il posto sarebbero la cantante Federica Andreani e il ballerino Ramon Agnelli. Stando a un'indiscrezione trappelata direttamente da Medeo Venza, sarebbe Federica l'allieva eliminata al ballottaggio finale. La giovanissima cantante fa parte del team Tadarisa. I due profudi amici già nel corso della scorsa puntata sono stati privati di un valido elemento, il talentuoso ballerino Lessio Cavaliere. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.